Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Questa sera, e oggi è 15 marzo del 2022, questa sera alle ore 20 sul mio canale Instagram, quindi non qui su YouTube, però ci tenevo a avvisarvi. Avremo una diretta di mezz'ora, una chiacchierata con una bravissima sessuologa clinica, la dottoressa Valeria Randone, che scrive anche per la stampa, per le pubbliche, ha ospite spesso in programmi televisivi come Forum o con la Panicucci, con la quale discuteremo in maniera molto aperta e libera di quelle che possono essere delle problematiche della sfera sessuale, chiaramente tendo a parlare di quelle maschili, essendo il mio lavoro da andrologo, approfitto della sua presenza e aperto anche, chiaramente, dei limiti del possibile a rispondere alle domande degli utenti. Quindi vi aspetto questa sera, ore 20, sul mio canale Instagram, Andrologia Militello. Buona giornata intanto a tutti quanti.